Presentato a Teramo dall'assessore Maria Cristina Marroni il regolamento che disciplina il servizio di refezione scolastica. Si tratta di un nuovo strumento che il Comune sta predisponendo per la prima volta e che ha come obiettivo quello di regolare modalità, funzione e finalità del servizio. Il servizio di refezione istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del diritto allo studio ed assicurare agli alunni la partecipazione all'attività scolastica per l'intera giornata. Si propone dunque come ulteriore obiettivo di educare ad una corretta alimentazione per mezzo di una dieta studiata in rispetto della salute del bambino. La finalità è di promuovere una sana e corretta alimentazione in riferimento alla disposizione indicate dalla ASL e favorire l'integrazione scolastica. Tra gli elementi innovativi inseriti nel regolamento spicca la possibilità di veicolare da casa il pasto, ovviamente subordinato ad alcune precise prescrizioni. Poi la possibilità di inoltrare la richiesta di dieta speciale per motivi di salute o per motivi etico-religiosi. Il menu anche in questo caso, approvato dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL, seguirà le direttive regionali in materia di refezione scolastica. I menu saranno differenziati per asilo nido e scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno. La discussione e l'approvazione del regolamento sono ora demandati al Consiglio Comunale nella seduta di martedì prossimo, 12 marzo.